Vado anche a darvi oggi due episodi, vi porto anche la sprint dell'Austria, gran premio di Spielberg, otto giri, ho fatto le qualifiche quinto, potevo andare meglio ma speriamo di una sprint un po' più aggressiva per poi farci una gara un po' più tranquilli. Come abbiamo fatto in Canada, queste sono gare dove vado molto forte, quindi abbiamo buone possibilità di fare qualcosina e possiamo provare a fare qualcosa di buono oggi. E allora, Spielberg. E ora analizziamo la griglia di partenza della gara sprint di oggi. Otto giri. Max secondo. E ora vediamo il resto della griglia. Leclerc, Norris, il capitano, Fernando Alonso. Siamo davanti ad Alonso ed è buono. Lance Stroll. L'ultima volta abbiamo guadagnato dei punti, continuiamo così. Allora possiamo andare su... Su soft. E andiamo sulla soft. Andiamo... portiamo subito forti. Siamo subito forti, ma attenzione Max Versappen. Dobbiamo lasciare... Andare Max via. E' molto forte sull'allungo. E' molto bravo lui da guidare. Occhio nel dritto. Occhio nel dritto. Occhio nel dritto. Occhio nel dritto. Occhio nel dritto ragazzi Siamo più veloci di Max Dobbiamo un po' farlo Giocare verso di noi Rattirarlo Macchia va molto forte Il drs sarà consentito da questo giro Usalo nelle zone drs se sei a meno di un secondo dall'auto davanti Le zone drs Eh l'ho detto Però ci stiamo provando Eh difficoltà Il campione del mondo Difficoltà 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 Mamma mia Mamma mia E lo prendiamo Via Bella gara Sarà una lotta con Max oggi La lotta col campione del mondo Mani andrò a fare la gara Con voi Dopo farò lo speciale pazienza Per ricordare l'allenatore Che è con noi È stato per tre anni Alla guida dell'audace Cerniola Prima finisco qua la sprint Con voi Tre video in una sera Record Del canale Tre giri Siamo andando straforti oggi Abbiamo carburante a sufficienza per altri cinque giri Occhio Bruciato Max Bruciato Max Bruciato la superstar Bruciato la superstar Not male Not male Bruciato la superstar Bruciato l'audace Cerno Proveciato l'ad di Milano Perciato la superstar Bruciato l'addiat Ramblin E' qua un po' sbagliato Peccato perché sto facendo molto bene La superstar non molla Un'altra Ho guidato molto meglio Rispetto a Max oggi Ha sofferto oggi Max Il distacco dal tuo compagno dietro di te è 6,7 secondi Questa è una pista che favorevola le Ferrari Lo è stata l'anno scorso Quest'anno Ci resta abbastanza carburante Per un solo giro E ci portiamo anche a casa La sprint oggi E via Anche con la sprint Siamo terribilmente forti oggi Siamo terribilmente forti E partiremo primi Partiremo primi In gara E la ridedico a Blady oggi Questa vittoria Vediamo cosa è cambiato Nella classifica pilota Si accorcia la classifica Tra la prima posizione E anche il mio zio Franco Vi voglio un grande bene Zio Franco È solo l'evento principale E ora attendiamo con ansia la gara Domani commenteremo E siamo In Testa Siamo in testa E allora Ci vediamo Per il video adesso Che andrò a pubblicare su Pazienza Pazienza E Per ricordarlo In questi due anni Di Tre anni Di Bella Cerignola Andrò a riguardarmi un po' Le statistiche Di quello che ha fatto Pazienza Nei tre anni A Cerignola Quindi Ci vediamo per i prossimi video Pazienza